Ciao, sono Giuseppe Dioli Signorelli in Arte Fumetti Brutti. Beh, ciao, sono Miro Manano. Hai mai fatto sesso mentre disegnavi? Sì. Sì. Hai mai detto ti amo? Assolutamente sì. Così brutalmente non credo. Hai mai provato eccitazione sessuale davanti ai tuoi disegni? Rarissimamente, molto raramente. Qualche volta. Hai mai usato un sex toy? No, purtroppo no. Assolutamente sì. Hai mai fatto un disegno per conquistare qualcuno? Sì, come no, certo. Sì, assolutamente. Hai mai posato nulla per qualcuno? C'è sempre tempo, anche se il tempo gioca a nostro sfavore, diciamo così. Assolutamente sì. Hai mai indossato un travestimento nel sesso? Non ricordo, può essere. Quando ero a scuola, al liceo, avevamo una compagna di classe, era ospite in un convitto di suore. I ragazzi non potevano entrare. Allora, le mie compagne, ognuna di loro ha portato un capo di abbigliamento, chi le calze, chi la gonne, eccetera. Mi hanno vestito da ragazza. Le suore non mi hanno proprio... Siamo entrati tranquillamente, siamo usciti tranquillamente. Io avevo l'aria un po' di una ragazzaccia sguaiata, insomma. Ma ad ogni modo questo mi è successo. Hai mai fatto una capsule collection con My Secret Case? Sì.